buon salve e benvenuti in questo nuovo video oggi l'intro staccata dal video in cui andremo a giocare boro synthesizer per tornare a fare video di gameplay anche qui su youtube con il mazzo che mi ha fatto vincere il top power player of the year in questo caso quello del 2023 eccolo qua il trofeino che mi dà la prova del fatto che ho vinto effettivamente nel torneo ma sappiate che usciranno anche i video del tpp e di tutto il power get on sul canale di lega power italia li sto editando in questo momento solo sono una mole di lavoro incredibile quindi arriveranno abbastanza breve ma arriveranno ma prima di cominciare con il video volevo mostrarvi intanto i tocchi che mi sono stati dati dal mio sponsor mezzo c'era in friends abbiamo il samurai magari li tolgo dalle perfect perché altrimenti non si vede un cazzo eccolo qua il nostro bellissimo samurai ci abbiamo anche il clou in questo caso addirittura in versione foil ma di clou ce ne sono di vario tipo anche il nostro toga e ribelle in questo caso addirittura firmato dal nostro artista sappiate che da questo video ogni tot usciranno dei piccoli bundle che vi permetteranno nelle prime 48 ore dall'uscita di questo video di acquistare tramite codice sconto che trovate qua sotto in descrizione proprio sul sito di merda gen friends dei token in omaggio su alcuni tipi di acquisto in buona sostanza se utilizzerete il codice borosen che trovate sempre qua sotto in descrizione come anche il link al loro sito potrete prendere quattro token di questa categoria e andarne a pagare soltanto 3 sappiate che questo codice sarà sempre accumulativo quindi potrete andare a prenderne anche due bundle e pagarne comunque soltanto 6 e il codice valido sia per quelli poi che per quelli non foil oltre ovviamente sempre il codice sconto che trovate sempre in descrizione per avere uno sconto del 5 per cento su tutti gli ordini insomma sconti su sconti su sconti non pago vi ricordo che potete acquistare anche queste carte su car trader tramite car trader 0 risparmiando quindi notevolmente sulle spese di spedizione e sempre qua sotto in descrizione trovate un link da cui se vi andate ad iscrivere otterrete ben 2 euro di buono benvenuto che vi verranno caricati sul vostro account che per le carte power e anche molto non ci resta che partire con il video godetevelo buon salve buon salve benvenuti di nuovo sul mio canale buongiorno a tutti buongiorno a tutti e buon pomeriggio effettivamente cambiato un pelino un pelino pelino poco 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 il setup cambiato alcune robe aggiunto qualcosina poi pian pelino arriveranno anche qualche qualche piccole novità ma ci tenevo a tornare con il mazzo che mi ha fatto vincere il tpp il top power player 2023 bonus synthesizer bonus synthesizer sto mazzo mi ha divertito tantissimo durante quell'evento lo abbiamo testato insieme a menguchi in parte insieme anche a true hero che ha dato qualche consiglio siamo arrivati a questa lista che durante quell'evento ha performato veramente bene veramente bene ma che ultimamente però su magic online ho visto davvero poco ma proprio poco 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 non fosse familiar il mazzo che ti ha fatto vincere con familiare ho vinto ho vinto sono arrivato molto in alto perché poi non si è giocata la top 8 ho fatto top al side event e la domenica se si abbiamo ci siamo divertiti con quello poi la domenica ma lì è stata una storia divertente perché gavin ha fatto una roba del tipo a due minuti prima dell'evento mi ha detto vabbè dai usa questo mazzo e io sono ritrovato a listare due minuti prima dell'evento esattamente quel mazzo quindi è stato è stato divertente però mi fa giustamente questo mi sembra un mazzo forte quindi giocalo a questo evento ci sta ci sta è andata è andata bene anche lì diciamo che ho dominato abbastanza i 6 di event mentre il main event è stato un po' un po' un disastro al main event ho giocato in tre giorni tre mazzi diverse al main event ho giocato boros iniziativa e boros iniziativa un mazzo non volevo beccare ma che se avessi portato questo sarei esploso ancora peggio ed era familiar ne ho beccati tre o quattro mi pare oltre a quattro uno l'ho anche battuto con uno pattato con uno ci ho perso e niente ci siamo affossati su questa cosa è stata abbastanza triste però beccati troppi veramente troppi potevi perderne soltanto due e già soltanto una patta è praticamente considerata una sconfitta ai fini del dei due è stata un po' un po' triste sì 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 però con questo avrei fatto peggio contro quel mazzo buonasera buonasera dio dalle quattro del pomeriggio mannaggia mi aspettate al mare assolutamente sì assolutamente si organizzeremo senza alcun tipo di problema ci sarò ci sarò purtroppo questo mazzo non ho capito perché si sta vedendo troppo 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 poco nelle leghe di magic online sta facendo poco o nulla ma non lo vedo neanche nelle challenge comunque quando c'è è sempre poco presente a me sembra forte sembra comunque molto forte proviamo il ambas proviamo i casting to the fire anche su magic online e vediamo la differenza che c'è magari tra il cartaceo e l'online in realtà questo mazzolotto è stato online senza ortroppo il ambas ma con un simi in casting to the fire che era l'altro quello bicolor shuttering blow forse perché non sei preso benissimo contro spacca terre non lo so secondo me si gioca abbastanza si gioca c'è una partita abbastanza aperta non lo so non ne sono troppissimo sicuro quindi io direi che lo proviamo in lega vediamo come va vediamo come ci comportiamo in base a quello capiamo se continuare a giocarlo anche su magic online o meno e direi che entriamo in lega ho fatto una serie di 4 1 tipo infinita ultimamente non riesco a fare un 5 0 neanche se sbaglio magari oggi cambiamo questa questa situazione potrebbe essere un'ottima un'ottima occasione per riprendere a fare qualche 5 0 direttamente live sarebbe divertente però magari con un mazzo che mi ha dato ottimissime soddisfazioni e che mi ha regalato quel trofeino che adesso è tipo lì dietro di me non si vede qua sotto avrei voluto vedere il jessky con la quale hai fatto 10 0 scorsa settimana 20 giro lo porterò porterò anche quello porterò anche quello però volevo tornare con questo easy molto easy questo qua mi ha fatto vincere il ppp quindi ero solitamente più contento purtroppo quella challenge io non l'ho registrata e non so se andare a ricommentare le partite perché boh secondo me sono video sicuramente più corti ma un pochettino più forse l'altra volta non era piaciuto tantissimo quel video che avevo ricommentato una lega quindi una challenge ancora più pesante sono 10 partite non 5 non lo so non lo so avevo questo dubbio gigantesco oltre alla mole di tempo che poi va ad occupare ma quella ce la possiamo anche accollare in realtà in questo momento in questo momento nei tempi liberi ho aspettato anche un attimino perché sto editando tutti i video del geddon mi sono accollato questa roba quindi a non troppo brevissimo ma abbastanza breve dovreste trovare i video del geddon di tutto il tpp e tutto il day 1 dei 2 più top del power geddon sul canale di lega power italia che sarà una roba bellissima bellissima e noi intanto direi che ci accolliamo questa mano abbiamo un lembas abbiamo un unbringer abbiamo un butterfist abbiamo un po' di rovine vai abbiamo anche carclan shaman che in questo momento non è infinito ma che lo diventerà questa cosa mi va bene ma tra l'altro facciamo come su magic online mettiamoci un piccolo avatar ci mettiamo un piccolo avatar in qualità di un piccolo charizard lì bello tranquillo guardate che bello guardate che bello da lì poi giochiamo rosso quindi un charizard ci sta bene questo è morto e noi andiamo di barbid così intanto mettiamo un pezzo sul campo vai quella challenge riprendila come replay va bene va bene può diventare un ottimo video può diventare un ottimo video si potrà fare vuol dire un epico va bene già me ne aspettavo un un cool dot avevo pronto e caldissimo il mio carclan shaman makeshift munitions ok 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 cogliamoci lembas per il momento questa attualmente non è brutta però però attualmente mi serve altro ok diamo a 21 e poi c'è a 21 a 20 un danno di epicurio ce lo siamo già presi è vero è vero è vero è vero il tpp non avevo hai ragione questo danno ce lo prendiamo perché nel caso possiamo fare carclan shaman che sacca barbid e mi lascia in campo il mio ribelle se mi fa un bel cool dotino quella è la mia speranza e invece questa potevi farla prima ma va bene ok ok sai che io in questo momento a sto punto facciamo makehift munitions sto ribelle nel caso si immolerà qua sopra ovviamente facciamo anche questo e vai e già deve cominciare a capire se vuole utilizzare i botti sulle mie creature o su di me ed è già un qualcosa è vero però il tpp quando non avevo più ribelli perché ne avevamo dimenticato qualcuno usavo torcic sì 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 un torcic foil che mi era uscito una galvanica qua sopra va bene un torcic foil che mi era uscito da un happy meal se non mi ricordo un bellissimo happy meal prenderemo due schiaffi vorrei che fossero solo due possibilmente va bene va bene va bene questo va bene più pezzi mette fai anche un cool dot lo so che li giochi no eh terrina terrina ce l'accogliamo allora il discorso qua è se noi vogliamo fare calcone shaman nel caso possiamo saccarci barbid l'ambasio non lo vorrei saccare su questo per il momento in realtà possiamo aspettare ancora un attimo possiamo farci questo qui c'ha due carte in mano che non è che siano tantissime secondo me aspettiamo ancora un attimo ci teniamo open semplicemente perché se comincia a voltarci i pezzi noi possiamo tirargli i pezzi o in faccia o sulle sue creature galvanic blast ma noi in realtà per il momento tanto poi sacchiamo tutto di quello ma oddio spariamo qua sopra sono comunque un botto di danni in meno va bene due galvaniche su due pezzi per me sono otto danni in meno io sono abbastanza contento di questa cosa tra l'altro con tutto il mana che ha probabilmente vuole saccare sintetizzatore ed è anche un buon motivo per il quale non abbiamo ancora fatto carcone shaman tacchi solo così blocco tira una spell improvise club ok va bene questo va bene e noi uccidiamo questo tanto quella morirebbe lo stesso quindi così capiamo se abbiamo ancora tempo o no io direi che ok barbid dovrei capire se voglio saccare la terra o meno però probabilmente si perché ripeto l'embas io la voglio tenere peraltro quindi sacchiamo clu l'embas diciamo moros garrison ci riprendiamo questo facciamo carclan sacchiamo barbid e sacchiamo terra non lo sacchiamo in risposta di munitions tanto non ci cambia nulla vai va bene col dota subito dopo aver fatto carclan shaman zio pera va bene però ci abbiamo comunque un bloccante e le munizioni in campo e abbiamo anche una sky fisher allora qua mi viene in mente il fatto che se facessi course che il fi ah course che fisher la dobbiamo fare punto e basta la domanda è vogliamo riprenderci questo vogliamo riprenderci l'embas perché cambia notevolmente cambia notevolmente però questo mi dà un proiettile in più e mi permette di rimanere più open in questo momento che mi piace leggermente di più va forse è meglio riprendere traben si traben in questo momento mi permette di avere un proiettile in più per munizioni che in alcuni spot non è per niente brutto questo me ne faccio una ragione ok i vai tappi d'auto sono contentissimo si ok sappiamo questo l'andina va bene ok facciamo l'anda a questo punto riprendiamo l'embas questo è di nuovo un proiettile vabbè va bene così l'abbiamo vinta 1 2 3 4 5 dunque barbid è nettamente più scarsino nettamente più scarsino munizioni in realtà non sono tutta questa roba ci sono lentissime molto 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 lente in realtà dovremmo togliere anche qualche botto perché poi gli scambi uno per uno di quel tipo non sono infinitamente forti piuttosto tanto teniamo questo abbiamo un'altra frattina andiamo a togliere un bontino e andiamo a togliere o sai da adesso dobbiamo stare un attimino attenti un pelo più attenti a casting to the fire ma questi boros garrison aiutano non poco non poco probabilmente facciamo così se 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 con tre goblin giù un proiettile in più non è brutto assolutamente no e questa mano è una mano manabile va bene non mi partire terra bestia perché io l'ho andata appata vabbè questa questa è la bestia la bestia che vorrei come il mulino vai non mi fare casting to the fire questo è un altro aspetto abbastanza rilevante che se no mi rompe abbastanza le ballote e mi ha fatto casting to the fire perfetto zio pera allora vogliamo rischiarcela ce la rischiamo non devi avere di nuovo casting to the fire così è questa cosa va bene tu stai scavando per vedere un altro casting to the fire ok ok e facciamo terrino facciamo questo però non ha fatto granché quindi io tutto sommato sono abbastanza contento botto sul mio pezzo e la galvanica è andata a me però sembra cioè mi imbarazza un po' utilizzare questa galvanica così però rimarrò imbarazzato ma va bene improvise club va bene ce ne facciamo una ragione ce ne facciamo una ragione siamo ancora abbastanza alti di vite relativamente ma facciamo l'ambus che nel caso poi ci può fare anche delle vite questo va giù va bene facciamo coros garrison vai ora possibilmente possibilmente visto che giochi già casting to the fire io non credo non dovresti avere slot anche per raids se hai anche raids bravo tu casting to the fire sull'ambus porca miseria però non l'ha fatto sulla terra quindi in realtà tutto sommato e facciamo questo per il momento intanto abbiamo già una vita di di terra e questa è infinita 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 ma in questo momento appoggiamo bestia facciamo bestia in questo momento va si vai in realtà il prossimo turno possiamo fare Igor Wellspring e stare open di di fondri elix che è tanta roba e lui ha concesso la partita abbiamo battuto monored così va beh easy 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 ed è che poi monored è forte ma non è forte forte ma non è forte bella questa cosa dell'è forte ma non è forte molto bella sì 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 sono abbastanza convinto di questa cosa ma non è un mazzo che può cioè ha una win rate in realtà bassa poi è tanto presente ma continua ad avere una win rate abbastanza bassa vero che voi direte sono settato però sono settato per il meta quindi ci sta ci sta e poi è sempre divertente farvi esplodere così soprattutto boss side ecco questo piano che si si incastrano con un sacco di casting to the fire robe di questo tipo me l'ha fatto di secondo poi se però ne vedi tipo due o tre non hai non hai non hai pressione cioè hai risposte se io però vedo land in un artefatto tu non è che fai infinite robe mi hai tolto un lembas amen mi hai tolto una terra però ha fatto poca roba almeno in questo momento allora è una mano è una mano keep lui manliga sei noi se peschiamo un'altra terra riusciamo di terzo a fare la nostra giocata forte che è quella di fare barbie di secondo quell'intoc di terzo che rimbalza ed è molto figo siamo contro patine lorien no siamo contro dimir terror va bene oddio può ancora essere ubifate ma penso che sia dimir terror e invece rieccomi qua classico spammone incredibile che ha disturbato anche il nostro il nostro commentatore durante tutto il durante tutto il power geddon qua perché non prendi più la preview porca di una miseria ladra mannaggia a te ecco bene 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 allora quando dobbiamo decidere se fare barbie butterfist o lambas andiamo incontro sostanzialmente in entrambi i casi a un tristissimo spell pierce ma non è che ci possiamo fare molto pure l'altra cosa è provare a triccare con una makeshift unitions ma io direi che facciamo barbie gli andiamo un attimino anche se gli andiamo in bocca più che altro non abbiamo la terra quindi preferisco che mi counteri questo poi se non lo counteri a me va bene uguale me ne sono subito pentito di aver giocato monored mirror troppo a caso ed è troppo facile giocarci con sì 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 cioè diciamo che i mazzi praticamente tutti i mazzi hanno delle risposte 1 2 3 4 5 pezzi va bene quindi qua o mi fa la gurmag e mi sta bene ok ti sei svuotato il cimitero va bene questo è ottimo noi facciamo questa rovina qua ti attacco se non blocca si becca 3 danni se blocca gli muore la gurmag se non blocca noi facciamo questo se ci riprendiamo barbid facciamo barbid abbiamo messo un board bello pesantuccio più danni riusciamo a fare più i suoi snaffalto cominciano a diventare deboli e piuttosto rigiriamo i botti su di lui qua ovviamente non andiamo a bloccare perché gli basta una removal per fermarci ricordo che qua noi possiamo anche guadagnare no hai già quella dannatissima ce l'hai già in mano ma rispetto il funks va bene questa partita sarà lunghissima oddio mi basta pescare una montagna e questo pezzo qua lo risolviamo eh snaffa out e canterspell prende canterspell tre carte in mano ma noi non abbiamo pescato una ciofeca di niente oddio in realtà se risolviamo munitions possiamo cominciare a dire blocco ti sparo blocco ti sparo faccio cose lo gente però così saltiamo l'endrop che è molto triste però secondo me a questo punto dobbiamo risolvere munitions poco da fare e facciamo anche traben e per il momento gli entriamo un po' con tutto poi dal prossimo dovremmo cominciare a bloccare piccola nota margine io abitualmente gioco la sera notte oggi mi sono fatto la lega pomeridiana ne ho chiuso 2-3 va bene 4 goldota red mamma mia però ragazzi se voi mi dite ho fatto una lega va bene ho beccato 4 monored fanno altre 5 di lega quanti monored becchi perché io non ne sto beccando così poi in realtà dipende veramente va casissimo ci sono delle leghe dove io becco 4 familiar e cosa faccio badno familiar perché ho beccato 4 familiar in un torneo è a poco senso dipende anche dall'orario in cui giochi assolutamente sì assolutamente sì prende un'altra dual in mano c'ha sempre il suo counterspell dunque io vorrei fare l'embas ho beccato 3 ponza esatto cioè dipende dal momento questa qua la mettiamo in fondo in bottom bellissima questa frase e ti vorrei venire a trovare con questi 3 1 2 3 vai unico problema di questa partita ci stiamo un po' inchiodando a land che è un problema problema più grosso di quello che sembra va bene vai un problema gigantesco va bene bloccheremo e ti spareremo e per fortuna in G1 una volta risolta munitions questa cosa la possiamo fare non dico all'infinito ma un po' di volte saluti dalla Lega Pau per Genova salve salve l'ho visto l'ho visto l'evento l'ho visto sto cercando di capire se riesco a venire sto cercando di capire se riesco a trovare il terzo compagno di team ma in qualche modo qualcosa dovrei riuscire a fare allora almeno ci stiamo provando ci stiamo provando questo lo posso dire dunque 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 siamo in chiodatelli all'ande mannaggia la miseria facciamo questo in realtà in realtà c'è una grossa incognita spell pierce c'è i counter spell in mano io mi devo accollare e bloccare male ma va bene tanto io sto cercando l'anda quindi per me questa cosa va bene ad un certo punto le dovrò vedere le lande bene è andata così e vai pure non attacco neanche dovremo riuscire a risolvere questo karklan shaman con 6 artefatti in campo se questa cosa succede sono 1 2 3 4 5 e 6 artefatti in campo ce li abbiamo questo è morto a noi attualmente basta bloccarne uno bloccheremo questo oddio proviamo a fare un doppio blocco su questo tanto ci cambia qualcosa no proviamo a fare un doppio blocco su questo se c'hai removal me la tiri adesso ok 1 2 3 4 5 6 mi fai glint sta succedendo attenzione si e vorrei riprendere in realtà che male questa cosa che male questa cosa sintetizzatore vado sotto i 6 artefatti ma me lo devo accollare una bounce land vorrei fare un altro glint per un semplicissimo motivo se ha una removal rischio di andare panato se no e facciamo che in questo caso ci andiamo a riprendere marvid si facciamo questo e vai siamo a 2 siamo a 2 e dobbiamo arremare siamo a 2 e dobbiamo arremare 4 monored 4 monored dot ad esempio tipo in real cool dot si era visto invece pochissimo perché giocavano tutti quanti la versione ping e questo te lo vorrei sparare addosso vai 1 2 3 4 artefatti al momento se ok questo è un altro enorme pezzo in realtà per il momento facciamo board tanto io non penso che ci vada a canterare sti pezzi però facciamo l'anda facciamo questo se non attacco neanche di nuovo perché voglio giocare ultra safe proprio ultra safe e adesso dovremmo essere tornati ad avere abbastanza artefatti 1 2 3 4 5 6 6 unico problema adesso che io spero in realtà che lui vada a pescare una carta cioè tipo una creatura ti vorrei sparare oddio il prossimo turno possiamo provare a bloccare con un barbid e tirargli un bolt questa è un'altra gourmand ok comunque adesso che cominciamo ad avere intanto più rosso e qualche land in più che è fondamentale infatti questa bounce line è stata perfetta veramente perfetta facciamo un altro barbid ok tiri counterspell secco ce ne avrai un altro car clan se non c'è un altro counterspell bello come il sole andiamo a farlo adesso l'unica cosa che ci prega è un altro è un altro funx 1 2 3 4 5 6 però tanto non possiamo farci altro e nel caso abbiamo un bloccante oddio nel caso in realtà possiamo spararci una creatura sopra quindi in realtà manteniamo priorità fermi tutti tappiamo 1 e sono 1 2 3 4 5 6 e in realtà bypassiamo anche bypassiamo anche funx sparandogli esattamente il calcran shaman addosso va bene si 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 glielo spariamo lo stesso tanto non penso sarà infinitamente rilevante quel singolo danno si 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 ok e cominciamo a darti qualche pigna vai oddio non abbiamo più un board però in realtà abbiamo modo di ripartire in qualche misura e lui aveva una carta in mano vero che se pescano l'orien bene o male riparte però in totale mi è risolto un po' di pezzi se cicla dip e snaffout in totale 1 chainers edict te lo sparo addosso se vero è che qua se avesse pescato tipo una bestia ce la collavamo vieni a vedere lande mazzo vieni a vedere lande questa non è una landa facciamo questo se se ci riprendiamo questo niente lande solo botti porca miseria vai ce li stiamo togliendo ce li stiamo togliendo c'è da toglierci due giovani che lui pesca terror ovviamente beh che c'è anche la dip c'è anche la dip ma questa partita siamo veramente stati un po' inchiodati a mano un po' tanto inchiodati a mano pescato un'altra bestia pescato un'altra bestia eh ragazzo sei più forte tu sì ho pescato un altro nulla che dobbiamo fare che dobbiamo fare abbiamo pescato un'altra nulla niente vabbè così non vincevamo ma anche contro topolino va bene mettiamo questi mettiamo car clan basta via le fondri elix munitions munitions non mi piace e togliamo un singolo downbringer munitions non mi piace troppo c'è oddio una la possiamo tenere però leviamo un bolt facciamo così più che altro sta sotto idro sta sotto un po' di robe post side me la può spaccare però è anche vero che ha anche bolt non è che sia infinito vai eeeh no 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 però un po' triste questa partita un po' triste cioè non siamo mai riusciti a partire veramente male male perché poi quando rimani troppo indietro sei costretto questo è un keep ti giuro che è un keep quando rimani troppo indietro e non riesci c'è di land e non riesci mai a fare un minimo di vantaggio è vero che abbiamo risolto quel car clan però poi lui ha pescato subito il turno dopo e niente non va bene così ok dobbiamo pescarne un'altra eeeh ma sai che io però in questo momento mi faccio la icor perché perlomeno non mi può tirare spell pierce subito e riesco a risolvere una core sky fisher che mi fa un pelino di vantaggio ok synthesizer facciamo facciamo core sky fisher counter spell va bene con che accento l'ho detto è counter spell facciamo questa va bene vai e cominciamo a mangiucchiargli qualche risorsa no counter spell su quello in realtà io tutto sommato me lo accollo molto bene facciamo questa se e facciamo questa se va e qua dovrebbe fare qualche che entri poi qualcosa niente questa cosa è molto positiva perché vuol dire che non ha troppi modi di bypassare relic e questo me lo counter era tipo il 3000 per 1000 non spell pierce questo non mi sta sotto spell pierce però mi sta sotto hanno le cose ma ce lo accogliamo ok te lo esilio ti attacco sono tre per te e ci facciamo counter spellare oddio in realtà facciamo icor perché se non mi tira counter qua possiamo pescare ancora l'anda l'anda non male vai che è un'ottima cosa perché finalmente dovremmo riuscire a fare un qualcosa potevi farlo nel tuo questa cosa così eh era un'idea potevi farla nel tuo va bene e non saltare un drop però va bene va bene ti vorrei esiliare quella carta diamogli queste tre pigne e intanto ci va 14 che è una cosa molto 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 positiva mi tirerà qualcosa va bene è successo poi a 16 e poi facciamo lui fuori la spell pierce se me lo fa entrare hydro blast o annul hydro ok facciamo glint glint però me lo fai entrare si prendiamo questa vai ha tre carte in mano lui quattro adesso che è tutto sommato snuff out vuol dire che poi mi può risolvere una bestia se noi una bestia ce la possiamo accollare se no sacchiamo relic adesso sacchiamo relic adesso così perlomeno per questo turno non mi dovrebbe poter risolvere una bestia meno di mental no tot scour e roba di questo tipo però va bene mi hai conterato l'altro vediamo vai risolve molto bene vediamo se li hai tenuti gli spell pierce no ti attaccherei vorrei che andassi a 11 questa partita la stiamo un po' decisamente non un po' decisamente dominando si yes prendiamo questa vai terra relic di solito questi mazzi li rallenti infinito tripla spell ok quindi questo turno un pezzo lo puoi risolvere vediamo che cos'è questo pezzo intanto lui ha 11 quindi tolare and terror va bene costo 4 diciamo che ce lo accogliamo siderando che noi però possiamo risolvere questi pezzi sì montagna sì ti esiliamo una carta la domanda più grossa è avrà un'altra punks io direi che attacchiamo con entrambi i pezzi se blocca facciamo galvanichina lui se la rischia un po' perché questi lo mandano 8 e tipo doppia galvanica lo uccideva pensiamo terra che fatto vai grazie mille per la sub grazie mille per la sub grazie mille cromox tu tappi 5 tappi out va bene questa la offro io questa la offro io ed è morto se lo puoi attaccare a me non interessa noi facciamo un bellissimo tappo 2 questo altra galvanichina facciamo termina ti mandiamo a 6 non è che cambi molto ma facciamo le cose corrette va bene questo va su di te e questo va su di te bene 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 ora dobbiamo vincere g3 che forse quello è un pelino più difficile non è spettacolare ma non è neanche brutto diciamo non vedrò lo ritiene a 7 andiamo a tenere relica dalla cima quasi vai ah ma lei è qui salve si 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 siamo qui ok vai questo doppio sintetizzatore è buono che dal prossimo turno possiamo cominciare a provare a farli dobbiamo poi arrivare ad avere un tot di artefatti in campo downbringer può rallentare di uno sputo ma può rallentare di un qualcosa sì tip analisi downbringer può esiliare quella tip analisi se non pesca adesso però adesso un pelino più difficile sì uno due tre quattro cinque se fai gurmag sai che la gurmag ce la ce l'accolliamo che ti svuoti subito il cimitero nota tutto tranne la dip e noi facciamo tappo 2 te la tolgo e poi magari peschiamo anche reliquia sarebbe il top questa va bene questa va bene reliquia ci abbiamo mezzo provato stiamo pescando un po' non proprio benissimo lui però si è fermato due lande exile target deep analisi dal cimitero vai lui si è millato anche una terra di di mental note post branza ma non l'ho capita benissimo ma ma va bene subito così fanks cioè pesco un botto te la tolgo noi ovviamente non lo facciamo ma questo è un altro discorso sintetizzatore gira un botto qualunque porca miseria che brutta cosa che brutta cosa facciamo terra un botto miseria solo un botto solo un botto vannaggia la miseria e vabbò ti do un danno vai tristissima questa cosa tristissima 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 lui se l'ha rischiata non tanto di più cioè ha proprio fatto una roba brutta ma brutta brutta va bene mai punite certe giocate esatto cioè è una roba un po' vorrei fare sintetizzatore va bene vorrei fare sintetizzatore va bene vorrei fare l'anda in realtà noi lo possiamo accoppare questo adesso però poi non facciamo reliquia possiamo fargli quattro poi sacco questo e sacco una landa abbiamo risolto questo però poi non abbiamo reliquia a terra cosa è meglio fare forse reliquia in questo spot perché questo qua con munitions a terra lo dovremmo poter risolvere in realtà possiamo provare a fare delle robine due tre possiamo anche aspettare un attimo via questo male male vai possiamo ancora aspettare almeno un turno barra quasi due sì comunque mai punite effettivamente sì quella era stata una giocata veramente brutta veramente brutta triste triste lorien allora lorien è un mezzo problema perché ci può risolvere solo spell uno due tre quattro però poi non c'ho un altro artefatto che male se arrivano cinque artefatti posso sparare quello posso sparare quello sono tre due tre quattro e diciamo che va bene se no sacchiamo reliquia però saccare reliquia bisogna saccare reliquia bisogna saccare reliquia bisogna saccare forse stato artefatto ero più contento ma ce l'accogliamo va bene andiamo a due adesso doppio funks con due mana a caso questi funks attaccati alle mani questa è un'altra landa non artefatto questo è un macello enorme e noi facciamo questa io non me la collo di saccare questo adesso cioè brutto per clan non credo che andrà a risolvere almeno in questi momenti grosse cose quindi se utilizza un counterspell qua sopra ma tu sei un pazzo criminale un pazzo ma è vista una giocata orrenda non faceva nulla niente quattro artefatte ce le ho sì non faceva assolutamente nulla vabbè morto questo e no già devo pagare uno e questo vai mamma mia totes cover mental note va bene terror attualmente costa 4 ci serve un piccione per partire un piccione qualunque questo è un piccione io non volevo saccare questo spero che entri non entra male male vai malissimo 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 serve un altro piccione serve un altro piccione è bravino comunque counterspell counterspell va bene qui gira il terzo counterspell è un altro funks e terror va bene va bene oddio terra c'hai due carte in mano c'hai il quarto counterspell in mano l'emba l'embas l'embas fa sopravvivere sento ok è entrato travenina top facciamo travenina sì pescheremo poi dopo perché se mi spazio se tirare muval su traven devo saccare l'embas per sopravvivere e va bene questo lo sparo sul di te sì e poi facciamo un bellissimo sacchiamo questo guadagnare tre vite lo gli andiamo questo lo gli andiamo l'arte del sopravvivere l'arte del sopravvivere e mo mi serve una creaturina serve un piccione ho da due car clan 1 2 3 cioè o meglio 1 2 3 lo saccare sintetizzatore poi ne rimangono solo tre sacchiamo questo prima sacchiamo questo brutta bruttissimo vabbè facciamo questo perlomeno abbiamo doppio pezzo sul campo non siamo in una bella posizione non siamo in una bella posizione che c'hai in mano è morto c'hai un'altra removal ti hai pescato un'altra removal sei più bravo tu io ci sto provando in tutti i modi a pescare delle bestie che facciano vantaggio però terra va bene sì senza giorni è proprio un brutto match up non è infinitamente brutto non è bello però non è infinitamente brutto se riusciamo a cominciare a far del board vende un po' da anche da questa cosa basta terra mazzo ci spariamo una icor creature creature per clan uno per clan non me ne faccio nulla ma lo appoggiamo per non stare sotto removal vai o meglio possiamo sempre fare blocco scavo va bene va bene si è macinato una lorien e di questa cosa ne sono felicissimo felicissimo quando si giocano le versioni con troppo troppi automillini si rischiano un attimino queste cose che non sono bellissime io poi se riesco a bloccare con il ribelle e riesco a fargli tre danni a quell'affare giuro che sacco anche car clan subito dopo per fare due danni cioè sacco car clan lo faccio saltare con tanto di barbie di grande fornace poi si che siamo il top deck però ce lo accogliamo 6 7 8 abbiamo visto comunque 9 lande non ha attaccato bene e hydroblast lì sopra ok ok questa è una carta questa è una carta sì questo comincio comincio a sentirmi un pelo meglio poco ma un pelo meglio vai e se cominciamo a far board cambia cambia un po' tutto poi noi abbiamo dei top deck forti anche lui però anche noi abbiamo dei top deck forti questo per lui è un top deck forte che noi adesso siamo in uno spot in cui abbiamo tanto mana e io te lo blocco così poi tirami le removal tirami quello che vuoi moriamo va bene hai un altro pezzo va bene avrai un altro pezzo non siamo un punto da capo tutto sommato sì va bene mazzo è il momento di pescare l'ultimo sintetizzatore del mazzo sarebbe un'ottima cosa volt volt lo uccide sto coso però mi devo saccare il barbid diciamo così barbid va qua sopra però ce lo accogliamo sono tre pigne quanti pezzi c'è un tolarian una gourmag basta un'altra gourmag qui ne ha ancora di bestie ce ne ha tante di bestie devo pescare devo pescare devo pescare altro i miei sassi dove sono i miei sassi sa che ce la dobbiamo accollare questa cosa c'è vai cicla un'altra lorian purtroppo avendo così pochi artefatti non vedendo i sassi non posso neanche aspettare troppo perché lui poi pesca i counter e diventa un problema questa è una doppia gourmag eh male male terno ho una carta in mano io pesco eh è un turno un pelo tardi pelo tardi vabbè esiliamo tutto barbid che è una carta ma vai salve salve e niente e niente che pescavamo terra terra mamma mia ma i sassi non giocavamo ancora il mazzo qualcosa sì no siamo 24 carte va bene va bene va bene va bene va bene forse dovevamo malligarla quella mano in g3 forse dovevamo malligarla forse dovevamo malligarla e cercare una mano forse un po' più aggressiva però era una mano funzionale era una mano funzionale ah i corni giocavamo sì sì ovviamente in fondo al mazzo forse dovevamo malligare quella mano non ne sono troppo sicuro penso che l'avrete lutati con il mille per mille però oggettivamente ma con lui che tiene a 7 però una mano funzionale un dedro secondo me è sempre sbagliato malligarla è vero che uno diceva beh potevi malligare e vedere reliquia però un po' i malligoi vedo una mano brutta un disastro un disastro va va ci sta ci sta se g1 è quella che ci stava forse meno perché ci siamo solo inchiodati a land ed è stato triste quello abbiamo visto troppe carte senza le lande sennò quella partita secondo me si vinceva senza troppi problemi poi ripeto lui secondo me ha fatto una giocata proprio brutta 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 cioè non è stato proprio punito è come se ha detto vabbè chiudo gli occhi e spero che tu non abbia cose noi siamo rimasti a cercare delle risparmi per due turni a cercare un botto che non è arrivato e poi lui ha cominciato a fare il suo gioco quella è stata ci sta però va bene va bene no non credo che l'avrei mal negata comunque della mano quindi non credo sia stato un errore ci sta ci sta è varianza bisogna sempre ripetere su queste giocate qua su queste scelte se aveva senso tenere quella mano o meno perché poi se perdi dal fatto che dalla varianza ci sta cioè voglio dire tutti i mazzi anche un matchup 90-10 se non peschi le lande non è che ci fai molto a maggior ragione i matchup giocati se invece perdi per una scelta sbagliata allora lì sì che ti devi incazzare con te stesso però secondo me non è stata una scelta sbagliata quindi alla fine ci sta si continua a giocare tranquilli poi l'embas l'embas comunque qua ci ha dato almeno un turno che non è stato male che non è stato male comunque online effettivamente giocando cioè essendoci meno meno mazzi gate forse la terza fondriere xd side può essere sostituita con altro va va bene va bene poi dovrò capire perché da questa parte invece non mi prende tutte le volte la preview mannaggia mannaggia a te la proviamo così vai foresta passo è già croccante come cosa è già molto croccante vediamo che cosa sei battlement ok io non ho i tre artefatti zio pera però non posso fare doppio botto su questo almeno non adesso cioè mi sentirei un po' mezzo pagliaccio quindi facciamo questo cominciamo a mettere un artefatto sul campo passo un altro artefatto ce l'abbiamo tra me di spectre se peschiamo una qualunque l'artefatto o un altro sporca miseria porca miseria doppio battlement gira X-Bane Quirion è quello che dà rapidità ok più o meno va bene facciamo così facciamo così per l'X-Bane la risposta ce l'abbiamo intanto sono 1 2 3 si uccidiamo questo ti attacco vai dobbiamo pescare un kartlan un kartlan un kartlan qui rian ranger va bene l'hai fatto sì X-Bane ci sta vomitando l'anima addosso è winding way certo questo se ne va qui riusa rulli e shield ok cioè non è vero che è ok ovviamente saruli sì perché c'è anche lo shield che è un problema enorme questo è un artefatto girassi girassi un kartlan sarei kartlan ci ho provato non gli conveniva fare qui rion ma dipende se non poteva fare grosse cose questo turno no e noi però tanto qui chiudiamo gli occhi cioè nel senso uccidiamo un X-Bane che si può andare a tutelare con lo shield ma noi non ci possiamo fare nulla e vai chiudiamo gli occhi e dobbiamo pescare i kartlani il prossimo turno se lui in realtà questo turno può scombare con l'X-Bane perché tanto c'ha quello che dà rapidità però se però perlomeno gli abbiamo dato per forza la linea su cui doveva fare questo per tutelare X-Bane e non per chiudere la partita però sta partita è partito veramente forte proprio forte 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 sì drift c'ho un'altra qui riano in mano tanto va bene va bene terzo kartlani e papapapapà mettiamo anche la fondria elix che non è nulla in più mettiamo le reliquie non so non credo tutte ma mettiamo qualche reliquia per passare sopra a reeping dai va bene eh su twitter guardo ma quando riesco ad aver tempo di sopravvivere allora questa mano la manghiamo è bella quanto un cavolfiore al vapore e viola nere lì vai questa è già una mano più pelo più manabile è bella quanto un cavolfiore al vapore quella vai ma si gioca ma sono mazzi belli sì va bene facciamo l'embas alla ricerca di lande top vai e siamo già con questo tra artefatti potenzialmente quattro con la icor va bene va bene tutto sommato questi a casa mia esplodono tutti insieme facciamo 1 e 2 icor sì però non c'è ancora nulla non c'è ancora nulla di eccessivamente rilevante quindi io per il momento mi accollo questa cosa vai ah devo riprendere l'embas dovevo riprendere l'embas ovviamente va bene e mi guardava una carta in bio tappi 4 va bene hai 3 carte in mano c'è 2 più quella che tu tori ex bane sì però questo turno ancora non fai grosse cose perché non ce la fai a farlo sì se fa doppia ok e in realtà flex in realtà sti cazzi dunque tu cosa devi fare per vincere questa partita al prossimo turno se giochi lo 0-4 che da rapidità in colore quello non ha rapidità a sua volta se no devi fare l'altro a costo 3 che non so se giochi ma in teoria sì che però ti brucia 3 mana di cui 1 e saruli poi ne puoi fare ancora 1 2 3 appoggi ex bane dai rapidità quello però non hai più le periodo attive se aggiunge 2 mana non puoi vincere e allora continuiamo a fare i sassi facciamo l'embas top non dovresti poter vincere volendo ci teniamo open di botto tanto per per giocare ultra safe mi piace vai se hai aperto di galvanica se tenta di scambare scambare o fare cose puoi fare quello se e se se tappi 3 ex bane e lo sapevamo e fino qui va tutto bene 2 carte in mano non fai nulla ok sta cosa è molto bella prenderemo 2 danni giuro che li accetto con realics facciamo igor wellspring travenina allora allora io vorrei tenere almeno un lembas in campo però mi basta farlo da 3 quindi igor lembas terra in realtà la terra non mi piace troppo sacrificarla a sto punto ci sacchiamo praticamente la traben tanto non è che ci interessi più di tanto facciamo car clan e avendone un altro in mano io direi che sacchiamo questo ma peschiamo sacchiamo l'embas sacchiamo questo se 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 va bene la landina che mi da il secondo bianco e questo g2 diciamo che dovrebbe essere abbastanza andato dovrebbe questo va bene noi abbiamo 1 2 3 artefatti quindi questo esplode di galvanica facciamo questa che non abbiamo visto nella partita precedente ma glintalk on top vai e attacco abbiamo altre due removal grosse più un eventuale car clan dovremmo essere più un clock o rocchi va bene va bene si andrà a prendere lead penso si va bene mamma mia mamma mia facciamo questa si l'embas l'embas va bene attacco sa che sono tentato di fare addirittura questo car clan perché tanto non è che me ne freghi molto vai buon pomeriggio si è la lista che util non al gandor ma al top power player quella sì quella sì quella sì overground battlement bene ho girato drift battlement è un'altra terrina stupida ok entriamo di sei volanti e direi che dovresti essere abbastanza morto 1 2 3 fondri elix qui tocchiamo cosa non ho fatto sto cercando di cittare su magic online pagando il mana in maniera brutta va bene va bene cerchiamo di non cittare su magic online cervello potrebbe essere un'idea potrebbe essere un'idea ok allora i carclang ce li abbiamo attaccati alle mani che è una cosa positiva lui malliga 6 ce l'abbiamo già 1 2 3 artefatti praticamente nella materia l'unico aspetto non abbiamo un bolt però con lui che malliga questa non mi sembra una mano brutta in più siamo in the draw quindi possiamo ancora pescare una delle dei milioni e mezzo di removal che abbiamo nel mazzo per la stappata che forse ci piace di più forse ci piace di più va ok questa mannaggia però c'è due carte in mano però non arriva tre artefatti 1 2 no va bene facciamo l'embas sì e altra galvanica top vai dammi uccidere questo turno per cortesia se non mi uccide questo turno abbiamo un piano che più di 1 ok ok andiamo più di un piano facciamo questa landa questo è bello forte vorrei uccidere questo e vai molto bene molto bene e abbiamo ancora due removal più un cart plan pulso murasa porca miseria va bene però in realtà va ancora bene tanto abbiamo un'altra galvanica quindi non siamo costretti a fare robe brutte ok lui ha una carta in mano noi vogliamo tirare galvanica oppure il prossimo turno frattare ci devono saccare due terre però io forse possiamo aspettare che due terre in realtà sono abbastanza rilevanti in questo momento va bene va bene facciamo una roba più più interessante questo scoppia e poi andremo ad appoggiare un car clan anche se non lo te stai a fare nulla tra poco ci sono gli spoiler di commander master speranze di downgrade molte 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 secondo me secondo me ci potrà essere un qualcosa sai che questo mi cambia un attivino i piani e mi piace molto e ci ha dato in parte ragione su quello che abbiamo fatto in parte dico in parte perché comunque lui può dare rapidi però una carta in mano cioè questa al momento me la tengo facciamo questa va le terre considerando che nel momento in cui andremo a fare car clan attualmente dovremo toglierci due terre non mi dispiace avere una pianura in più winding way e si mette al cimitero lead winding way e foresta mamma mia ogni tanto spiegano anche loro molto bene si è preso una quirion che non fa molto ne abbiamo un turno pieno synthesizer le commons sono quelle che vengono spoilerate per ultime solitamente ammetto che è così purtroppo per noi questo turno sembra essere cominciato come un turno forte e questa cosa è bella altro sintetizzatore si bolt le leviamo di questa qua vai perlomeno gli abbiamo tolto comunque anche un colore e attacchiamo tanto quel difensore lì non ha non ha reach cominciamo ad avere un minimo di race altro winding way la foresta frid va al cimitero e prende ex bain e pilgrim va bene ex bain a cui però non dovrebbe riuscire a giocare stai dando un mana e puoi fare un altro pilgrim va bene dai rapidità hai un bianco stappi ce la fa a giocarlo invece ce la fa a giocarlo non può dargli rapidità quindi io ce la faccio a frattarlo grazie è stato tutto incastrato giusto partiamo con un sintetizzatore ok e che ti devo dire io ti attacco anche con la travel che tanto andrà a schiantarsi abbastanza a breve si va bene lui in realtà può fare una cosa che è quella di stapparsi ma c'ha una quirion e una carta x lui può stapparsi il down bridge dare rapidità aggiungere due mana e tirarsene in bocca mi piace facciamo carclan attingiamo due andiamo veramente a saccarci questi tutte e due no uno due tre e quattro si manteniamo priorità e facciamo via questo via questo via l'embas questo si risciuffla e via questo e gira bolt va bene va bene e bolt va in faccia a te che cominci a crollare di vite e passo vai da membri del pfp non avete info sui set futuri giusto assolutamente no zero per orientare ban che potrebbero essere risolti le nuove stampe simili sarebbe molto bello l'abbiamo chiesto ci hanno risposto no e basta perché tecnicamente c'è più rischio di fuga di informazioni in più se tutti i dipendenti wizard che hanno accesso alle info dei set futuri non possono giocare eventi competitivi il main event degli eventi competitivi non possono giocare determinate robe perché potenzialmente potrei avere info su come testare prima di voi quindi assolutamente no di tutto questo triste perché secondo me sarebbe figo per orientare magari alcune robe però effettivamente non hanno tutti i tor va bene io sto pensando che posso uccidere questo oppure sparargli potenzialmente il prossimo 8 ma più 4 non lo uccido quindi utilizzo meglio il mana gli uccido questo vai non guadagnerò le vite ma non mi interessa più che altro perché così se pesco un pezzo mi rimbalza sintetizzatore porca miseria avevo vinto ma 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 va bene non è importante il ban preventivo sarebbe veramente assurdo no 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 il ban preventivo assolutamente no i ban preventivi assolutamente no però puoi orientare magari alcune robe o meno diverse o tutte di contorno allora io vorrei sparar di questi e papapapapa io non ti posso meglio ti posso uccidere ma che risposte puoi avere praticamente nulla non mi interessa flambas tanto non puoi vincere comunque quindi tavolo botto intanto comunque proverò a vincere il prossimo facciamo anche questo e va non dovrebbe avere risposte quindi tecnicamente è vero che potevo chiudere il turno precedente però metti caso che per sbaglio invece ha delle risposte così gioco ultra safe tanto non c'è veramente modo che lui possa vincere da questo da questo board quindi va bene muri con triplo carcani shaman è bello beccarlo è bello beccarlo va bene l'idea è che se carta x è problematica e stampano y il mese prossimo risponde bene per aspetti bannare sì è anche vero che al contrario se tu dici attualmente magari c'è una carta che è molto problematica e so che invece c'è molto problematica ma diciamo un attimino al limite e so che invece sul prossimo set mi andranno a stampare una roba che insieme a quella mi devasta tutto e me la rende ancora più forte allora posso pensare di andare a toccare prima diciamo che ci sono delle robe che mi permettono di spostare l'ago della bilancia in alcune situazioni tra il magari banno non banno posso aggiustare posso calibrare un attimino meglio alcune scelte senza quelle info è un pelo più difficile però ci si brava lo stesso vai questa è una mano che risponde ad alcune rome gate ok gate dobbiamo aggrarlo dobbiamo aggrarlo quindi partire col butterfist non è per nulla male se poi riusciamo a risolvere anche con skyfisher che lo riprende o pescare un falchetto in questo spot sarebbe ancora meglio uv gate sarà partita abbastanza complessa comunque gattino subito così basilisk subito così va bene ok tu non bloccherai tipo mai non dovresti ti attacco se poi vuoi bloccare mi sta bene anche risolverti mezzo gattino così ok mi sta bene anche risolverti mezzo gattino così sai vai che adesso questo carcan diventa un pelo più forte cioè più riesco a risolvere i gattini saccando i token più in realtà sono contento l'altra possibilità però lì non avrebbe bloccato tipo mai ma veramente mai era quella di rimbalzo butterfist subito che schifo questa roba schifo va bene rimbalzavo butterfist e menavo con un 2-2 però ok allora facciamo butterfist e facciamo l'anda spostiamo questo qua sopra tanto questo qua non vola per il momento ti entrano tre danni volanti e poi facciamo anche questo yes ci riprendiamo butterfist vai a livello di board non siamo messi male se non mi fa allora faccio tappo 4 guardiani elix pulitissima questo è male questo è malissimo questo è proprio male 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 l'apoteosi del male un disastro un porca miseria mannaggia alla miseria ladra e male male non so se ho già detto male questa giocata è più brutta ancora brutta 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 perché adesso ti pescherai comunque un falchetto e non farai tutto il vantaggio che volevi fare proprio brutta 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 di fare un brainstorm falchetto e sciafflare e poi aspettare il prossimo per fare vantaggio tanto di andare in disco quindi che cavolo di vantaggio stai facendo brutta brutta proprio brutta non so se ho già detto brutta forse si non lo so però penso sia abbastanza brutta e quindi quindi controlliamo con lo spell pierce spell pierce c'è abbastanza sicuramente quindi non so se voglio fare barbid o fare munitions in questo spot ma facciamo barbid continuiamo così sì non vorrei andare troppo però ultimamente lo stanno giocando anche meno me l'accollo me l'accollo me l'accollo mamma mia che forti che forti ti attacco vai salve 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 squadronocle è la mia torcia volker intanto dombringer subito così al volo al brucio ok annaggia a te sì vorrei spararti qua sopra questa sì e quindi questa brainstorm non ha fatto alcun vantaggio con i falchetti forte sembrata molto forte pure le bounce land mamma e or dunque or dunque or dunque facciamo così io però se ti attacco con questi tu non me lo mangi che mi fai un doppio blocco brutto brutto per me e niente facciamo così ti attacco 1 2 e 3 oddio se mi vuoi fare il doppio blocco qua ti entra questo sì meno sì meno sì va bene va bene e li prendi 7 puoi andare a 7 è bello vivere a 7 punti vita cioè io lo consiglio sempre a tutti i telespettatori che ne pensi divertente vivere a 7 va bene da vai che dice bianco no dice rosso va bene va bene non si prende 3 però se ne prende 4 tutto sommato ci siamo mangiati una prismatica ci ha ucciso un token e basta questa è stata questo è stato un brutto sgarbo questa è stata una cosa brutta questa è stata brutta e tu sei stato molto cattivo e questa la spostiamo qua questa è stata cattiva molto molto me lo ricorderò me lo ricorderò va bene mi hai dato due danni hai fatto falchetto che non prende nulla perché ultimamente fa schifo falchetto è gattino ok l'unica cosa che non deve sopravvivere è proprio quel gattino falchetto attenzione attenzione ti vorrei dare queste pigne si prendi due e muore falchetto tutto sommato vorrei fare glintalk non c'è counterspell yes vorrei prendere questo vorrei fare barbid ok e vorrei fare cartlan così dovrei installare quel sacred cut in linea teorica lui si è mangiato un altro volante lui non ne ha tantissimi di volanti tappi 3 allora cosa vogliamo saccarci veramente il barbid senza saccarci il barbid ci saccheremo il barbid ok fai tappo 4 guardiano piccione che non tutora nulla molto contento di questa cosa e altro piccione che non tutora nulla di nuovo sono molto molto contento di questa cosa si soprattutto perché lui è a poco attenzione attenzione vabbè che ti devo dire io attacco con tutto mi dirai tu che cosa vuoi fare se passano 4 danni è morto ok 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 sì no forse sono 4 4 va bene e 1 2 3 boom boom ok 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 allora casting to the fire è una carta è una carta questa è una carta le relics sono una carta questa è una carta casting to the fire adesso vediamo se sei darli tutti però mi uccidono i falchetti tengono anche a bada i piccioni cioè i piccioni i gattini perché alla fine io perdo da gattino e guardiano se uccido quelli sono abbastanza a cavallo vado a togliere invece delle spot removal come queste oddio eeeh no vabbè qua l'unico dilemma è bolt uccide gli x3 mentre galvanica non sempre quindi forse ha più senso fare così leviamo le galvaniche almeno un barbid per quanto avete visto che non è scarso non è scarso però non è neanche infinito non saideremo tutte queste reliquie non saideremo tutte queste reliquie downbringer non è male munitions diventa più scarsa ma comunque molto forte dobbiamo andare a limare dici che shaman sia forte contro i gate allora tiene a bada i gatti tiene a bada i gatti perché noi veramente perdiamo da gatti forse il terzo carclin shaman forse è un po' eccessivo perché mettendo 4 casting to the fire è un po' tanto effettivamente un po' tanto capiamo se tenere 4 casting to the fire però realmente possiamo limare ancora qualche altra bestia c'è qualche altra qualche altro bolt perché casting to the fire in quegli spot diventa un po' più forte volendo possiamo togliere anche un altro barbid anche se non fa così schifo non credo terrei 4 cast se 4 effettivamente sono un po' tanti almeno un paio di reliquide le dobbiamo say dare se facciamo così facciamo così però forse diventa un po' troppo vediamo una traben via lo traben fa da collante barbid devo capire quanto è forte barbid devo capire quanto è forte in questo matchup perché in realtà quando riesce a overboardare forse lui con un più 1-3 nel mazzo che gioca anche l'ussaro lì forse con qualche 1-3 in più non è incredibile però però è anche vero che in alcune questo è un malnigan bello 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 questo è un malnigan e questo è un keep pesantuccio dobbiamo togliere questo e dobbiamo togliere mamma mia è un traben pesantuccio e abbiamo tenuto una mano a 5 che sta sotto da sto dust bellissimo bellissimo e adesso è il momento di cominciare a piangere adesso è il momento di cominciare a piangere seagate va bene eh che fatica questo uptip ma poi perché mettete gli stop in uptip in questi momenti ah ah da un bring va bene vai e per lo meno se mi fa c'è la giocata migliore qua e se mi fa di modern age facciamo un bring subito diamo un valore a questo un bring che è già un qualcosa forza ragazzo ti giuro che non è così difficile è più facile più facile di quello che pensi appoggi l'onda per day buongiorno polken comunque buongiorno reliquia però in questo momento tanto andiamo in ogni caso sotto dust quindi poco da fare se ce l'hai tiramelo abbiamo pescato una montagna questa cosa è decisamente più rilevante dust to dust al brucio eh vabbè ce l'avevi ci sta va bene facciamo questa e facciamo una fortissima reliquia fortissima oddio vai diciamo che lande tanto ne abbiamo quindi tutto sommato ha fatto una roba forte ma ce la possiamo ancora accollare purtroppo qua che ci siamo beccati un dust to dust sotto cioè dopo un mal di 5 no non ero è venuto top top il ragazzino into squadronaut ah che male che male però devo ammettere che se decidi di utilizzare le brainstorm male come prima io tutto sommato me la collo come cosa vabbè lo giochiamo perché lo giochiamo però qua probabilmente ecco infatti ci sono tanti una landa ma andiamo al lato positivo adesso se peschiamo dei piccioni possiamo fare del vantaggio l'unico problema il problema è che io adesso ho un'altra land artefatto se mi fa un'altra dust to dust su doppia land artefatto da questo spot ammetto che potrebbe diventare che brutta cosa va bene però si è tutorato l'ultimo quindi accettiamo questa cosa pondri elix esiliamo una carta e ci facciamo tirare un hydroblast qua sopra vero? vai sì un hydroblast lì sopra in questo momento se poi pesco delle robe più rilevanti diventa un po' più croccante scrai scrai prima di rimischiare una mossa davvero professionale non c'è niente da dire esatto va bene sì mi servono dei piccioni mi servono dei piccioni pesco che schifo e ti esili una carta non posso saccare ancora un sintetizzatore proprio troppo brutto in questo momento e vai barbid e vai io mi sto chiedendo una cosa ma lui gioca il modern age questo o questo è un problema questo è un problema che siamo troppo indietro per gestire questo problema e bloccarlo questo se questo è un problema di una certa rilevanza mi sa che dobbiamo saccarci la relic per pescare perché se non peschiamo bestie non andiamo da nessuna parte siamo indietro un po' di tutto modern age ok e scarti squadra va bene sacchiamo questa abbiamo bisogno di pezzi piccione bravo altro piccione tutti insieme mi raccomando perché i piccioni arrivano nel momento in cui io devo tirare da un bringer terra zio pera vabbè faremo questa rovina qua brutta cioè brutta non bellissima diciamo però questo qua deve scoppiare tipo adesso destroy target enchantment vai abbiamo fatto board non possiamo dire non possiamo lamentarci va bene prenderemo 5 presi se journey to nowhere li hai tenuti post side contro downbringer cleric e beh mi sembra doveroso sembra doveroso dunque dunque io potrei in realtà fare questa rovina qua core sky fisher counter spell landa vai counter spell e male counter spell e male però io andrò a saccare questo e mi dovrà utilizzare comunque almeno un'altra risposta qua sopra via questo prismatica va bene va bene prenderemo perché non lo sta facendo poi su questo lo capiremo poi in un'altra vita sintetizzatore bolt bolt ok ho fatto su questo perché dall'altra parte mi basta un casting to the fire e li risolvo più o meno perché è vero che c'è strength però per il momento va bene che quello poi diventa più complesso da gestire prendo ok tu in mano c'hai tre carte di cui uno sacred cat uno squadron rock e una carta x però c'è anche questo qua facciamo sintetizzatore facciamo icor reliquia è una mezza carta facciamo l'anda reliquia vai vai se non mi uccide questo turn che mi attualmente muoio da giorni però oh oh che culo ma te ho peccato un altro basilisk va bene o magari sbaglia e non pompa doppio piccione esiliamo tutto non credo non ho risposte in realtà però magari lui impazzisce e dice bianco l'ho provato e pesco e che era forte che era forte va bene però da questo mal di gara 5 e sua partenza forte in realtà allora un barbino in meno e una relica in più vabbè l'abbiamo capito ok siamo siamo d'accordo questa mal di gara 5 ok questa è già una mano abbastanza caruccia bandina va va ok 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 questa è fondamentale mi serviva almeno un altro un altro rosso e facciamo reliquio non che serva molto in questo momento ma ce l'accogliamo sì l'anda i meno sì peschiamo prima di questo va vai decidi di non fare assolutamente nulla ok town ringer l'anda facciamo car clan nel caso mena sembra una cavolata però tanto lui non è che ci abbia tutte queste removal se il fatto è che in questo momento se mi tira hydroblast qui sopra io giuro che me l'accollo io però sono quasi tentato di di saccare questa relic per non andare sotto dust to dust che brutta cosa vai però ne abbiamo tre però non posso andare sotto da sto dust in questo momento mi serve il secondo rosso per cominciare a fare sintetizzatore e cose qualche to bene che belle le basic del noppo sì 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 qua sono le terre di mirage sono bellissime ok vorrei spararti qua sopra ok un altro sasso di porca miseria e questo non passerà tipo mai in questo momento facciamo l'anda e attacco vai non me la sento li tiravo adesso se pensavo facesse altro e ammetto che pensavo facesse altra roba adesso c'ha la possibilità di fare brainstorm più squadronhawk che finalmente sarebbe per la prima volta una giocata anche forte e per la prima volta avrebbe utilizzato bene gli squadronhawk sarebbe roba proprio da da manuale in tre partite direi che ci sta sì qua mi accollo di beccarmi dust to dust però lui va tapped out e io cercherò poi le terre in altro modo va bene c'è con sintetizzatore però perlomeno lo risolvo sintetizzatore ok pesco terra facciamo anche un falchetto sì sì terra rossa vabbè è che tutto sommato t meno vai vai c'era la possibilità di risolvere anche un altro falchetto però 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 tappi 3 vabbè questo ormai abbiamo capito che gli piace giocare sì questo qua noi ovviamente non lo vediamo però è che sto nuovo qua ti costringe a tappare cioè boh non lo so non mi sembra infinito brainstorm di nuovo senza il mano è lo stesso turno per fare squadronok che brutta cosa che brutta cosa sì mamma mia hai scartato un gatto ragazzo 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 che te devo di in realtà bolt qua me l'accollo cioè te lo tiro con tanta simpatia sì facciamo questo buon salve buon salve exile target cut from graveyard sì ti prendi 1 2 3 4 5 tutti sti danni qua e a sto punto facciamo anche questo falchetto yes ci riprendiamo questo vai mossa che non pensavo di fare ma che in realtà poi a una certa diventa necessaria guardate come diventano forti da un ring scarti dust to dust journey to nowhere ok questi quantità mi sono 1 2 3 4 5 6 morto va bene tutto più facile tutto più facile vedi che ne giochiamo 85 milioni di di counter cioè di counter di di sti rovi va bene meno 2 siamo sul 3 1 fatica fatica spiaciuto un po' perdere mannaggia quella contro di mir terror mannaggia mannaggia però va bene va bene molto combattuta però molto combattuta salve 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 come andiamo come andiamo in questo tristissimo martedì lavorativo porca miseria la settimana è ancora tanto lunga ancora tanto lunga comunque questo mazzo questo mazzo su magic online cioè per le leghe di magic online forse possiamo davvero fare a meno della della terza fondri elix probabilmente se tanto vogliamo altra roba per godagnare delle vite perché chiaramente stanno girando pochi guardiani c'è molti meno guardiani online gira qualche terror in più fosteremmo per assurdo pensare di togliere un'eigro mettere il terzo lemmas così abbiamo più roba per godagnare vite e trovare uno slot magari per giorni uno bar da due giorni ha detto terra ha detto terra buon salve ha detto terra che attualmente è 2-1 ma perché se ne va la preview perché devo scoprire perché se ne va la preview non lo scoprirò mai la tristezza è infinita questa cosa la rimani là e l'avevo detto che lo beccavamo e questa mano è bella ed è brutta nello stesso tempo se perdi ti faccio il ride insieme ai miei cinque spettatori se perdi tutto lo faccio io molto bene e boh proviamo a tenerla proviamo a tenerlo proviamo a tenerla perché questa è una mano che ha tanto stacco finito a questa in realtà pensavo no muricombo disastro ci muricombo bello abbiamo pescato c'è oddio siamo ancora ancora con gli artifatti però se li peschiamo winding way che gira winding way terra però poi due pezzi invece croccanti dobbiamo pescare degli artifatti questo è un artefatto ad esempio così eh a caso e dunque dunque facciamo così bye ok secret door e due mana mi fai lo 0 4 ok stappo ok questo io mi sa che appoggio munizioni io non posso sacrificare tutta questa roba oddio ci accogliamo di non perdere il prossimo io non lo so in realtà perché lui è birbantello appoggiamo car clan e vediamo che succede vai perché se sopravviviamo un turno cioè se poi siamo costretti lo facciamo però se non siamo costretti questo va bene un pezzo in più che muore perché lui in realtà può scombare con questo più orochi in campo va bene e io non voglio che lui possa scombare ma voglio mettere più artefatti possibili sul campo ok drift of phantasm ok lui secondo me forzerà questo turno lo stesso perché se forza questo turno io sono costretto a tirarmi via praticamente tutto il board ma non può farlo boom ma non può farlo è bass è bass è un'artefatto se no dovevo fare Korsky Fisher che mi dipende questo è un'artefatto che mi cerca un altro artefatto questo è un'artefatto questo è un'artefatto va bene è un'artefatto sì senza 1 2 3 e 1 4 ma giochi in forza e pro come lì dentro se si esatto e papà papà vai 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 è liberato il campo adesso può fare terra guardiano noi abbiamo il vault però se fa friddi io sono più contento provo a fare un botto di mana provo a fare un botto di mana vai vai non lo so quanto sia effettivamente troppo giusta questa cosa perché lui questo turno può effettivamente fare della roba in più e qua mi stai obbligando però perlomeno ti levo questa giusto 1 2 3 4 però perlomeno ti ho levato quella ok hai 7 mana adesso si può colorare il mana come vuole quelli muoiono già spera muore quello è morto e questo è morto va bene friddi è andato lui mi può fare tappo 3 expain e gli avanzano 4 mana in realtà lui ha 3 carte in mano perché una è una terra quindi da quel punto di vista ce ne frega relativamente poco ok questo è male questo è abbastanza male prende un altro axe bane si e noi voltiamo questo peschiamo un altro volt facciamo icor e mi pesca un volt oh a seconda munitions va bene giochiamo 2 perché ne vogliamo vedere una partita non 2 su 13 car hai fatto un altro axe bane se faccio munitions tanto non ce la faccio a uccidergli il pezzo quindi facciamo così hai questo turno in cui fai quello che vuoi però hai 2 carte in mano quindi ok vai prossimo turno potenzialmente possiamo uccidere di questo però ci dov'è insaccare delle robe bruttissime via reaping via lead però c'è un tutore e saluti 2 e 3 mana ah no anche questo qua è un defender si va bene che prendi in base a quello cambia tutto il nostro percorso di vita considerando che reaping the grave se ormai se n'è andato e questo è un aspetto molto rilevante prende drift e dobbiamo uccidere questo pochi 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 cosi come uccidere questo perché lui può fare mana infinito si poi non sappiamo se c'ha un'autimana lui c'ha oggettivamente tipo 2 carte allora se gli togliamo questo difficilmente ce lo può attivare cioè andiamo in una situazione un po' un po' al limite perché ci sacchiamo questo però questo va qua sopra pescami un qualcosa di decente non ha pescato nulla di decente male questo fa così dobbiamo saccarci questa e ci teniamo il 2-2 e tanto mana ce ne abbiamo e a questo poi l'unico problema è che si abbiamo risolto questo e dobbiamo sperare che lui si fermi un turno 1-2 turni riuscire a pescare un sasso e ripartire lui però con l'aquirion in realtà è un macello perché adesso si può tirare drift che ballote però adesso deve poi cercare di nuovo un altro pezzo per fare probabilmente prenderà tipo lead penso e infatti tira lead quanti ne prendi tuk tuk e grizzly beh tutto sommato un sasso bravo mazzo bravo mazzo bolt e bolt ce lo dobbiamo tenere lì per il momento appoggiamo ancora qualcosa per far race e attacco vai e ci può fare l'unica cosa che non deve succedere è che mi faccia 0-4 più tuk tuk questo turno però molte me lo vorrei tenere per questo così non fa vantaggio almeno questa sarebbe l'idea questo qua va bene questo qua va bene e può anche fare tuk tuk volendo 1-2 tappa può fare il tuk tuk ma non lo fa va bene allora questo qua ovviamente deve scoppiare facciamo così con il doppio bianco e peschiamo una terra questo fa scoppiare questo questo rimbalza icor facciamo questa e temeniamo vai questo sassetto pescato è stato è stato molto bello poi noi potenzialmente qualche proiettile adesso ce l'abbiamo nel prossimo turno dovremmo riuscire a rimanere open con la igor in campo ed essere più felici giusto tra l'altro questo qua c'ha anche raggiungere pescato x-mail però non fa nulla cioè non non in questo momento però te lo devo levare lo stesso perché se no oddio posso va bene sintetizzatore attenzione botto terra questo barbid l'anga andiamo però a fare questa e ci scarichiamo uno che ha così paura di quell'ex banner che poi fa un botto di mana e non mi piace peschiamo ancora una carta sintetizzatore va bene va bene qua sopra questa e papà papà ti attacco noi tanto chiudiamo il prossimo quindi se uccido le x-bane in teoria non dovrebbe avere out dovrebbe quindi la linea teorica x-bane va bene sono stati forse troppo troppo frettolosi forse troppo spaventati da questo x-bane in campo effettivamente forse si poteva lasciare in campo però poi entri in un loop in cui lui dice se pesco lead anche se io posso rispondere a quello lui può pescare tante di quelle carte da fare schifo facciamo synthesizer a parte che è già morto però magari giriamo ancora un altro botto e l'x gli utilizziamo quella ti attacco va bene va bene uno due e tre e quattro e via questi questo e questo ma sei dato ce l'abbiamo vai e se vinciamo g1 g2 g3 che sono quelli tecnicamente un pelo più facili potrebbero potrebbe essere un po' meglio potrebbe essere un po' meglio non abbiamo ancora messo un singolo token samurai non abbiamo mai spaccato un sintetizzatore per far buono non è vero forse una volta oddio forse una volta contro terror non ne sono troppo sicuro va bene prima liga 6 noi abbiamo un bolt che ci rende abbastanza contenti va bene è un car clan va bene quanto pauvere oggi si 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 tu puoi fare un sacco di cose va bene ma la facciamo la giocata brutta facciamo la giocata brutta facciamo la giocata brutta lui c'ha tre carte in mano va ce l'avevi ce l'avevi va bene allora ti uccido questo c'è tu e tenuto monolanda mamma mia andiamo aggressivissimi troppo a 1 no 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 come i cor unisce poi grande mazzo l'elande va bene hai fatto ne troppa e lande mazzo e lande e pa 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 pesco così brutta cosa pesco così landa ok perlomeno adesso siamo pseudo open dal prossimo turno di una fondri elix che è già un qualcosa tipo se mi fa il muro 0-4 io sono contento non sono contento però ce l'accogliamo facciamo questo che te devo dire facciamo questo stiamo facendo dei turni un po' così però secondo me quel carclay shaman lì è stato non dico decisivo ma quasi bravo moretti piantati così e facciamo un altro io devo pescare solo delle lande mazzo così non mi aiuti ti assicuro che non mi stai aiutando va bene vai però noi abbiamo una race aspetta ancora un turno a fare cose Ale aspetta ancora un turno a fare cose vi sto pescando tutti i drop alti penso quindi avergli tolto quella Quirion insieme a un accelerino e poi tolto anche l'altro accelerino forte perché lui di base è qua è vero che c'era tre pezzi ma faceva soltanto due mana ne ho neanche tre perché sono tutti scarsi se non hai gli altri pezzi abbiamo vinto così fantastico abbiamo chiuso un fantastico 4-1 vedete che il mazzo è forte anche qua è forte anche qua grazie Ale per il raid è vero che mi raidava soltanto se riuscivamo a a batterlo quindi grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille